ciao bambini sono claudia maffi una psicologa dello sport e io voglio dirvi questo dall'anno scorso la nostra vita è un po cambiata ma una cosa non deve cambiare il piacere di pedalare all'aria aperta perciò quando è possibile uscite in bici pedalate e divertitevi all'aria aperta è davvero un toccasana soprattutto in questo periodo un saluto al magico salento da claudia maffi ciao siamo al che se ne sembra bello bello allora dobbiamo fare qualche altra passeggiata qua ci stanno i vari cammini c'è anche il cammino di santiago scritto però sono 2530 chilometri questa è la via traiana è francigena la traiana calabra vabbè diciamo che viaggia sulla stessa tagliate più o meno giacomo allora alla fine di questa passeggiata com'è andata ti sei divertito però voce non ne tieni devi burlare un po' ma la prossima andiamo al mare no la prossima ci mangiamo un gelatino e torniamo saluta ciao 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 ciao